quindi tu stai pensando stai presumendo che il conto abbia fatto tutta sta messa in scena solo per avere la mia auto scelto può essere scelto va bene io non c'era arrivato ancora scelto quindi lui ha staccato la spina ha fatto fin da poi mi ha fatto sentire in colpa poi la mamma mi ha fatto dormire in macchina poi ha fatto finta di fare pace con mia solo per avere la mia macchina e i regali che il tuo compleanno e il tuo natale certo va bene grazie per certo voi siete i miei angeli custodi vi amo siete un po' cucciazzosi certo perché vi mette i ciazzi hanno a chiamare a voce però siete i miei angeli custodi va bene ti ringrazio grazie certo ora indagherò